Musica Bentrovati con una nuova puntata di A Tu per Tu, le storie raccontatele voi. Oggi siamo ospiti nello showroom Febalcasa della ditta Leggeri, a zona Città Giardino, Oristano. Il nostro ospite di oggi ha davvero tanto da raccontarci, è Michele Ardu, è un fotografo ma è anche un artista, lo vedremo un po' meglio, è anche un ingegnere biomedico, non dico male, e quindi insomma ha davvero tanto nella sua esperienza passata, anche se è giovanissimo. Michele, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, sono felicissima di essere qua. Benissimo, allora la regola è la nostra clessidra come tempo, però prima di farla partire ti chiedo qualcosa per rompere un po' il ghiaccio. Tu sei soprattutto un fotografo ora, e quindi io sono sempre curiosa quando ho gli ospiti che hanno una passione particolare, di capire e conoscere come nasce e perché, se c'è stato magari un episodio particolare o qualcuno che ti ha un po' instradato. Diciamo che sono sempre stato molto appassionato di comunicazione, già dai primi anni, dalla gioventù, sono sempre stato appassionato, tanto appassionato anche di musica e di altre forme d'arte, quindi dentro di me ho sempre saputo che comunque avrei fatto comunicazione in una qualche forma. Poi sì, con la fotografia, che è una passione che si è sviluppata pian piano e dove ho trovato ad oggi la mia espressione più naturale probabilmente, quella che mi appaga di più e che mi appassiona di più. Hai fatto studi particolari? Ingegneria biomedica. Ah, no. No, ho capito la domanda, scherzavo. No, non ho mai studiato fotografia. Ah, no. No, non ho mai fatto dei corsi specifici, ho seguito diversi. Tre terzi, tutto niente, non hai subito quella... No, ho studiato, ma non ho fatto dei corsi, non ho seguito un corso specifico per la fotografia. Hai un fotografo di riferimento? Ne sono tanti, dipende dall'umore, dal genere, dalla pubblicazione, da tanti, tanti nomi. Va bene, dai, facciamo partire la nostra clessidra, ok? Allora, la domanda che ti pongo è questa. Io ho scoperto, chiacchieranoci un attimo prima, che Michele non vive a Oristano, ma ben da sette anni a Londra, prima ancora in Polonia quando ha studiato. Com'è vivere a Londra e perché sei lì? Allora, l'idea, la primissima idea di Londra fu perché decisi di andare in una grande metropoli e in realtà il sogno era di andare a vivere negli Stati Uniti. Quindi contavo di trasferirmi a Londra, andare a scuola d'inglese, prendere la mia certificazione e poi magari una borsa di studio per studiare fotografia a quel punto negli Stati Uniti. Feci conti senza l'oste, in realtà, perché arrivai a Londra e dovetti lavorare immediatamente. Quasi, ci siamo. In un bar però, in un bar. Ok. Diciamo che è esattamente il corrispondivo del lava piatti, però indietro il bar. Ok. Fu un'esperienza molto formativa, anche quella che non rimpiango, anzi che ricordo con piacere. Nulla, quindi a scuola d'inglese non andai mai, la borsa di studio per gli Stati Uniti non la presi mai, non studiai mai fotografia. Però? Però non è stato lavorare, quindi comunque è una città che mi ha dato tantissimo. Ti chiedo qualcosa sulla Brexit, respiri un'aria diversa, si sente qualche cambiamento per noi che non siamo inglesi? Ma diciamo che si legge tanto, ma Londra, per la sua natura, per tutte le nazionalità che comunque la compongono, è sicuramente l'ultimo posto del Regno Unito nella quale la Brexit si possa sentire. Ok. Sì, sì, sì. Speriamo bene, apparentemente. Senti, voglio arrivare invece a parlare di un momento importante della tua vita che è stato quando tu sei riuscito a entrare in contatto e hai ottenuto un grande contratto, in questo caso con il National Geographic, la rivista che è conosciuta in tutto il mondo. Come è avvenuto e che cosa hai pubblicato? Allora, diciamo che i primi contatti risalgono a qualche anno fa, quindi circa cinque anni fa adesso. Pubblicai delle fotografie che saltarono, evidentemente, cioè colpirono l'attenzione, mi tennero nella loro lista di contatti, corretto. Dopo qualche tempo una producer stava lavorando su un pezzo su Londra, a riguardo di Londra, e mi contattò per mandargli delle immagini e poter fare questo lavoro insieme. Non andò mai in porto con la pubblicazione perché poi interruppero quel progetto, che era una sorta di guida di viaggio fatta da un fotografo non della città, che risiedeva in città. Ah, quell'occhio diverso. Esattamente, poi non si fece mai con la pubblicazione, purtroppo. Ma, tenne i contatti, mi chieserò sempre di mandare delle nuove idee. Quindi ho proposto qualche storia e sono state pubblicate. E poi ce n'è una, due, anzi, forse molto, molto importanti. Allora, tornando indietro un po' di più nel tempo, nel 2017, se non ricordo male. Corretto, sì, fu la storia che racconta la vita di Mauro Marandi, le 24 ore del guardiano dell'isola di Budelli, dell'unico abitante dell'isola deserta e paradisiaca di Budelli. Fu una pubblicazione che aveva un successo straordinario, venne tradotta in tredici lingue, ripubblicata in tutto il mondo. Ma l'avresti mai detto? Ci speravo, diciamo che sotto sotto l'obiettivo era quello, no? Alla fine si fa sempre il lavoro per eccellere. Ma la tua valutazione personale come fotografo sale? Più c'è il riscontro, più il tuo lavoro è... è stimato, è riconosciuto. È importantissimo avere un feedback del genere. Quindi diciamo che, l'avrei detto da positivo e inguaribile quale sono, è ottimista, no? È ottimista, però effettivamente non me lo aspettavo. Sì, però nel 2018 quella che forse ci piace di più a noi, che viviamo in Ristano, è legata alla Sartiglia. Sartiglia, un successo pazzesco. Tu hai scritto anche il testo in italiano per il National Geographic. Sì, il testo per il National Geographic in italiano l'ho scritto io, corretto. Invece il testo americano ho presentato le immagini, l'abbiamo poi lavorato insieme, hanno fatto un racconto. I cavalli, quindi hanno avuto... Assolutamente. Beh, da Oristanese è stata una grandissima soddisfazione. Da fotografo lo è sempre National Geographic, ma in questo caso da Oristanese è stato ancora più importante. Si è passato anche di Sartiglia, quindi immagino... Assolutamente, di Sartiglia. Poi i cavalli fanno comunque parte anche del mio percorso artistico, diciamo che coprono una parte molto importante. Ho un grosso progetto che va avanti da anni, che ho esposto per Photo London, che è il festival più importante di fotografia di Londra, all'Istituto Italiano di Cultura. Il progetto si chiama Inrequieta, ho fatto già diverse mostre. Senti, hai un sito, si può andare a furgare un po' per vedere le tue foto? Sì, sì, cercando il mio nome e cognome, Michele Ardo, si trova più o meno tutto. Ti metto, Matteo, a cercare. Senti, non solo foto, però, perché tu abbiamo detto sei un po' artista, addirittura la stampa, il quotidiano di Torino ti ha pubblicato in prima pagina. Ti aspettavi anche questo? Che cosa ha messo? No, no, non me l'aspettavo. Diciamo che quello è un lavoro sempre legato alla fotografia, ma estremamente più, sì, molto contemporaneo. Ed è un lavoro che si chiama Musica, dove ritraggo la forma del suono e delle canzoni. Quindi ogni canzone che suona e viene riprodotta dà vita a una determinata forma. che è fotografo e poi si può rileggere nella forma dell'energia della musica il suo significato, anziché doverla per forza ascoltare. Chi ti aveva intervistato? Nicola Pinna, un altro conterraneo, ovviamente. Sì, sì, lo salutiamo oggi, magari all'ascolto. Ciao, Nico. Senti, se potessi dare un consiglio a chi fa le fotografie, qualcosa di molto terra-terra, che cosa diresti? Di fotografare ciò che interessa al fotografo. Senza stare troppo alle cose tecniche. Assolutamente. Seguire i propri interessi, perché è l'unico modo per poter comunicare davvero con le immagini. È finita la classità, lì già, però se ti chiedo un'altra cosa, tanto un attimo lo possiamo chiedere, ma quando tu invece guardi le fotografie degli altri, se hai le foto anche di famiglia o quant'altro, il tuo occhio è un po' comunque clinico, oppure riesci a separare, a essere anche emotivo e dire vabbè è bella questa foto, anche se tu hai già visto che magari c'è qualcosa che non... com'è? Diciamo che l'aspetto tecnico lo si nota sempre, però dipende poi da che importanza si vuole dare. Senti, progetto che ti piacerebbe realizzare nel futuro immediato o a medio termine? Diciamo che ho in mente di sviluppare questi due grossi progetti che sono già avviati e dargli la forma in termini proprio non tanto di esposizione, di mostra fotografica, quanto di vera e propria esperienza multisensoriale. Possiamo dire che ha 32 anni, non l'abbiamo detto, ma adesso lo svelo. Michele, è stato un piacere... Piacere mio, grazie mille. Dopo ci facciamo un selfie, speriamo che venga bene. Ringraziamo gli amici che ci hanno ascoltato, Daniele Rosano in regia, i fratelli leggeri per averci ospitato nel nuovo showroom Febalcasa in zona Città Giardino a Oristano. Scriveteci e seguiteci. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti.